Buongiorno a tutti. In questa serie di video vi parlerò delle tonsilliti. Nei bambini c'è un'ipertrofia congenita delle tonsille e delle adenoidi. Che cosa sono le tonsille delle adenoidi? Sono degli organi emopoietici, ovvero sia degli organi che producono, ci proteggono dai germi esterni nei primi anni di vita. Noi viviamo, nasciamo, scusate, nasciamo con un sistema immunitario molto scarso che ci dà nostra madre tramite la placenta. Per i primi anni di vita gli organi deputati a produrre gli anticorpi non funzionano, funzionano male e poco, e quindi le tonsille delle adenoidi vi cariano questa funzione. Da ciò si evince che nei bambini togliere le tonsille delle adenoidi non deve essere un gioco o qualcosa di superficiale, in quanto esponiamo il bambino a una minore difesa immunitaria. Nel 1960 sono state fatte più tonsillectomia a Roma che in tutti gli Stati Uniti. Da quel momento i pediatri hanno detto basta con la tonsillectomia e anche questo è sbagliato, in quanto quando c'è la reale necessità la tonsillectomia va fatta. Quindi questo nei bambini. Negli adulti mi capita di vedere delle enormi ipertrofili tonsillari che danno un sacco di problemi, dalle apne notturne a fenomeni infettivi acuti e cronici anche di grossa entità. Quindi in quel caso anche se il paziente dice come alla mia età devo togliere le tonsille, sì, nel caso in cui diano grossi fastidi, in genere più di 30, più di 3, scusate, tonsilliti l'anno, c'è l'indicazione certamente a effettuare la chirurgia. Se volete approfondire l'argomento cliccate sul link sottostante e andrò avanti con le spiegazioni sulle tonsilliti.